Tra l'altro ho suonato due o tre strumenti, no in realtà erano due, la tastiera e la batteria. Allora correva tipo l'anno 2008, se io sono del 2004 allora io avevo esattamente quattro anni. Ricordo per il compleanno, anche qua non mi ricordo di preciso ma vabbè ero un mormocchio di merda. Una batteria ragazzi vera, cioè non un generatore così a caso di batteria, è una batteria vera però comunque adatta alla statura che io avevo. Qui c'era di tutto, non mancava niente, c'era il kick, c'era lo snare, c'erano gli heads, c'era tutto quanto l'occorrente per una batteria. Dopo io ho smesso perché essendo un mormocchio di merda io l'ho rotta, letteralmente l'ho suonata cinque volte e dopo l'ho rotta, così proprio. Dopo mi si è passato un altro strumento che era ragazzi il sintetizzatore, il sintetizzatore che poi non ci è voluto niente a darmi il sintetizzatore, non ci hanno speso nulla. Era che mio padre e mia madre siccome quando loro avevano tipo 20 anni andavano in discoteca, comunque loro erano già affascinati da questo genere musicale. Così appunto per provare loro decisero di prendere un sintetizzatore, tra l'altro non mi ricordo neanche il nome del sintetizzatore. Me lo fecero provare così per gioco e da quel gioco ho capito che in futuro questa qua sarebbe stata la mia strada, ovvero il producer di musica elettronica. Era un mormocchio, sai, penso di sì, penso di sì, non vorrei sbagliarmi. Ovviamente c'è risale a quando ero piccolissimo, adesso non è che posso andare, che ne so, qui vicino perché tra l'altro in questa stanza, questa stessa stanza, io ho aperto tutti quanti i pacchi. Dovrebbe essere tipo, oddio aspettate, c'è, c'è, mi sa che c'è, aspettate un attimo, clippate eh, perché mi sa che c'è. One eternity later. Guaiu, finalmente sono riuscito a trovarla, eccovi qui. Aspettate, aspettate, aspettate che se no non si vede. Ragazzi, la prima tastiera con cui Andrea Milani, oddio, qua, Andrea Milani World of Music ha cominciato a fare musica, è un, eh, allora non so se funziona ancora, penso di no. Ma infatti, no ragazzi. Cioè, però vedete quanto, comunque, c'era il pitch effect, con un nome che non so neanche pronunciare, music partner ms4 o 0, penso che quello là sono 0, non penso sia un 40, anche se ne dubito. Electronic full chord play. Quindi ragazzi, tutti dicono che i producer di adesso non sono gli strumenti, però ragazzi, io suonavo già gli strumenti. Mi avvicino a questa tastiera elettronica, dopo appunto appena iniziate le medie, dove c'erano comunque i corsi che ti facevano imparare appunto a suonare gli strumenti. E indovinate un po' qual è stato ovviamente il classico strumento che si suonava alle medie, ma anche alle elementari si faceva questa cosa. Ovvero, di suonare il flauto, ragazzi, credo che vi sarà capitato a tutti quanti di suonare il flauto a scuola. Io facevo questo, però prendevo anche lezioni secondarie di chitarra, nonostante la chitarra, cioè altrimenti 0 chitarra, se non nell'ultimo remix che vi ho fatto sentire. Vabbè, io credo di aver detto tutto. Se la live vi è piaciuta lasciate un like, un commento, condividete la live o un canale con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!